Le rinnovabili in Italia sono state un piccolo miracolo. Abbiamo attraversato la crisi economica creando un settore industriale. Qui a Verona, 4-5 anni fa, avevamo pochissimi stand, era un evento per pochi intimi. Oggi è un evento da 100.000 visitatori, 1.400 espositori, migliaia e migliaia di aziende, 150.000 lavoratori. Stavamo andando a gonfie vele, anche sulla base del terzo conto energie emanato dal governo in agosto. Purtroppo, due mesi fa, il decreto legislativo rinnovabile, il decreto romani, ha posto uno stop gravissimo a tutti gli investimenti in corso. Dal 1 giugno non ci sono più incentivi sul fotovoltaico, che è la tecnologia rinnovabile che tira di più. E quindi tutto quello che vedete intorno a me in questa fiera sostanzialmente non ha più una certezza. I 150.000 lavoratori, le oltre 2.000 aziende del settore, non sanno che futuro avranno. Questo è un settore che può dare moltissimo al nostro paese. Già oggi abbiamo 150.000 lavoratori e 2.000 aziende. È un settore che può arrivare oltre il mezzo milione di lavoratori in 3-4 anni. È un settore nel quale il numero dei brevetti può crescere in maniera esponenziale. Gli italiani siamo stati grandi in tutte le tecnologie rinnovabili e possiamo tornare a esserlo, perché la ricerca in Italia è sempre stata leader. È un settore che può portare benessere in termini di diversi punti percentuali di PIL. Già oggi si conta che valiamo il 0,5% del PIL, possiamo arrivare a 3-4 punti percentuali di PIL in 2-3 anni. Uno dei rischi per la ricerca italiana è di essere sorpassata da altri paesi, la Germania e il Giappone, che stanno investendo in maniera importantissima, gli Stati Uniti con il loro piano di green economy. In questi anni cruciali si gioca il destino del secolo futuro, che sarà il secolo delle rinnovabili. Se noi non investiamo, se non ritorniamo a prenderci un posto di primo piano, siamo condannati a essere provincializzati.